bella leggera salone un nuovo pacco bing e oggi è il giorno in cui ci sono 10 pacchetti da 25.000 a scattare i pacchetti oro premium come vedete da questa schermata guardate chi c'è da trovare sala m o t m moccino 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 portaci su moccino per tecnici e domanda eccoci aria un altro pacchetto subito si lo pone a sapere subito sarà ci sarà ci sarà se c'è stato molto più che sarà sarà c'è un'ora la londetta e non va a lega metatino fabbrica se non sbaglio 20 mila 10 mila inviare stessi chiesa benzena ma non ha voluto vabbè però e cominciamo con benzena ordi e finiremo con e che sarà sarà sono ovviamente non molto se c'è il guai subito un altro pacchetto oh io torre ma torre della legge obiettivi che ci abbiamo già per il tema il cazzo no tagliare qualcosa ma in cazzo non lo sai che è una visita quindicina cittadini spiega non è un altro pacchetto di cui insegnano di un pacchetto normale alla cazzo reina cirei a un paio o si vado va bene e mai pure di te c c 20.000 e la zappa il giardino un giro un uomo un uomo un uomo buoni un uomo un uomo metti sono tutti i conti un riscattato pianista la parola alamo alamo alba se lo troviamo giocato e onda e coche amico comunque sono bestia sono abc molto più forte sai almeno 7.5 fai mai mai in valentia in spagnia in cui sai e lo poco gioco ma non è vero anche se i quali in prima cosa non ho supportato non sei gozano 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 il culo uomo uomo stansi schi per la parte cosa cosa è bella un po' tanto un bruttino troppo un culo stavolta la famiglia la vita la vita la vita la firma scopo giacchierini giacchierini ora pericolato purtroppo auguri 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 carlo carlo non so perché ho preso donato che sono mai stavolta malissimo come si fa provo a roma roma la città guarda di roma se form alzare il roma un altro da 7 e mezzo con messi perché giusto perché c'è lui troviamo qualcosa ve lo sento e lui è lionello lionello con 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 barbara unico tessino 6 anni intero un uomo c'è un corso in primo uo d p mas per germania col il sapere attraverso la tutta la rosa è un alzardo lo troveremo io guai e non tanto mi ha preso liberi più vuole coltivo per ammorto si rossi quasi delegati valore a volte ma che toglie di mezzo ma che gli ultimi due ora c'è un 2 e 1 2 e 1 2 1 e quindi non sarà l'allara o c'è tolè muore di me bambetta no per te per la gara si trova ma che va a farlo a riuscire a riuscire a marotta e magari per amici sono solo 3 doppioni l'ultimo pacchetto 25 mila grisman eccolo no cassino morale la propria curva di un prodotto per una moda stai a spagnolo e non gli senti allora come se si muove pensare ora è la quante forte questo vita rodriguez carcine fa cerca la scassata non butto in casa come usc e molto equilibrato guarda cattaviglietti e ciò è un'altra linea il quale il quale è non c'è fra i miei oggi. la foresta io ho avanti con guarda a questa è un progetto e quadrato se non è una volta non è un'altra volta che è un pochettino vola 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 ammai a ammai a ammai per la vita della migliore e si deve cercare di un periodo di corredito Colano ben altro E il tuo, vabbè, perché Buttavolo là in mezzo Dunque ragazzi, questo Tanto ci speriamo, eh Che c'è il cazzo Trapp E' una trappa, tutta una trappa E' trappo a Tony Non ci stanca, oh, bello No, che rendi attivo, ma c'è un'idrappone E' però sto, sto, è deficiente Dei poter essere Vai, Montreal, mettiamo lui Come TS, vabbè Divide questa, oh, bella No, oh, oh, Marco 2 No, oh, bellissima Qua striscia laterale è qua Ci sta un'altra divisa qui a campo Vabbè, fai puro Vabbè, ragazzi, per questo episodio è tutto No, questa è me l'ho divisa Sì, non è vero, non mi diamo dubbio Comunque, niente, ci facciamo al prossimo pack opening Yes Lasciami like, qua sotto, decidete voi quanti Dai, eh, tutti Allora, facciamo una cosa, ogni persona che vede sto video Ogni persona, adesso Sul serio Tu Lasci un like Ma perché poi lo vede in qua C'è la differenza tra le visualizzazioni e i like Quindi ogni persona che vede questo cazzo di video Deve lasciare un like Facciamo questa grandissima, bellissima cosa Cerchiamo di portare i like Come le visualizzazioni Avete presente l'ultimo che commenta vince Oppure scrivi il tuo nome tutto di fila senza che ti interrompano O quella stessa sfida Cioè, di sto tipo Ovvero, i like devono essere uguali alle views Va bene? Ok? Ciao Ciao